Grazie Valeria, ora noi ci colleghiamo subito con Bologna perché Bologna è pronta per il via della sesta edizione del Biografilm Festival. Allora il nostro ospite è Andrea Romeo, direttore artistico del Biografilm Festival. Buongiorno, benvenuto a Rai News. Grazie, buongiorno a voi. Una sesta edizione che ha fatto già molto parlare, anche se siamo ancora all'antivigilia, ad iniziare dal documentario, dalla sezione che riguarda Marilyn che ha già occupato servizi nei telegiornali del nostro paese. Sicuramente un nome che ha sempre un grande richiamo, ma a questa edizione non è soltanto Marilyn. No, sono dieci film in concorso a Biografilm 2010 che si contendono il Launch Award come miglior documentario biografico dell'anno, oltre all'incredibile documentario su Marilyn, le ultime sedute. Marilyn racconta al suo analista i suoi turbamenti, le sue difficoltà ad essere un'icona mondiale della bellezza. E Marilyn, lo vediamo in queste immagini, è raccontata in questo documentario francese come mai prima, con immagini veramente di altissima qualità. E il documentario è di fatto una specie di inchiesta, un documentario di inchiesta su quella che poi è stata anche la tragica scomparsa di Marilyn Monroe. Un modo per conoscere anche meglio Marilyn, ma il Biografilm Festival è un'occasione per conoscere anche altri grandi protagonisti. Quest'anno di un periodo storico ben preciso, vero direttore? Sì, il Festival quest'anno si dedica all'Italia 60, il bello, il boom e la dolce vita. Molti gli ospiti e i grandi film che presentiamo, uno tra tutti è un ospite di grandissima attualità, un focus di grandissima attualità. Torniamo su una figura importante anche per la storia del servizio pubblico, ed è quella del professore d'Italia, del maestro d'Italia Alberto Manzi. Assieme alla fondazione Alberto Manzi e alla Regione Emilia Romagna abbiamo voluto dedicare ad un grande della RAI una giornata intera di lavori e una rievocazione di quello che è stato con il suo, non è mai troppo tardi, il ruolo di alfabetizzazione che il maestro Manzi ha svolto da partire dagli anni 60 e che per esempio la nostra generazione conosce ancora troppo poco. E c'è spazio anche per Diabolic in questa sesta edizione? Sì, altre figure straordinarie sono le sorelle Giussani che appunto nei primi 60 creano questo primo personaggio, come dire, non positivo. Per i fumetti ricevono, loro sono due donne molto emancipate, Angela Giussani ha addirittura il brevetto di volo, prima donna in Italia, e si confrontano con la novità di un personaggio maschile, quello di Diabolic, abbastanza inedito, e di un personaggio femminile, quello di Eva Kant, assolutamente inedito. Per il panorama dei fumetti dell'epoca, presenteremo alcuni documentari dedicati alle Giussani e poi la sera ci sarà una festa dedicata a Eva Kant che coinvolgerà tutto il Biography in Village per raccontare anche non solo attraverso gli impegni, diciamo, nelle sale cinematografiche, ma per immergersi negli immaginari delle vite che anche quest'anno andiamo a raccontare. Un Biography Festival che come ogni anno è organizzato in focus, uno riguarda anche Peter Sellers. Sì, abbiamo questa fortuna di avere a Biography il grande documentarista John Sheenfield che oltre al suo documentario sullo sconosciuto Peter Sellers, sul Peter Sellers diciamo meno noto della televisione in Inghilterra nei 50, ci porterà un inedito mondiale, un film del 53, The Super Secret Service, ovviamente esilerante in cui in qualche modo si preconizza la nascita poi dell'ispettore Clouseau che tanta fortuna ha dato a Peter Sellers e si anticipa quello umorismo straordinario che i Monty Python riprenderanno poi con il loro celeberrimo Flying Circus 16 anni dopo. Uno dei Monty Python, Michael Palin, grandissimo della televisione inglese e noto in tutto il mondo per il suo ruolo in Un pesce di nome Wanda e in tanti altri film comici, sarà con noi proprio per celebrare Peter Sellers e raccontare quanto la comicità e la televisione dei Gooms, il gruppo che Peter Sellers dirigeva negli anni 50, hanno poi influenzato tutta la televisione e la comicità successiva. Tra gli altri grandi ospite anche Monicelli, Paolo Villaggio, quindi anche nomi importanti della nostra storia cinematografica, ma il Biografi Film Festival è un modo allo stesso tempo per conoscere personaggi della nostra storia ma anche un modo per vedere grandi film, grandi documentari, per conoscere anche l'arte del cinema? Sì, assolutamente. Oltre ai tanti film biografici e ai focus che quest'anno vanno da John Lennon, il primo giorno, un focus curato dal giornalista John Vignola che ci porterà nella vita di Lennon dopo i Beatles, questo mercoledì 12 e ancora poi De André che chiuderà appunto i focus del festival domenica 13 e domenica 13 sarà proprio Teresa Marchesi a curare questo omaggio a De André e qui parteciperà anche il figlio Cristiano De André. Ovviamente quando si parla di vite e di biografie si parla Biografi Film anche di cinema e per questo abbiamo voluto mangiare il più grande sceneggiatore degli ultimi dieci anni, riconosciuto a livello mondiale come un talento creativo, Charlie Kaufman, il suo Semilasci Ti Cancello, titolo italiano odiatissimo, film amatissimo, The Eternal Sunshine of a Spotless Mind ma anche essere John Malkovich e l'esordio alla regia di George Clooney Le confessioni di una mente pericolosa saranno ripresentati in copie straordinarie a Biografi Film con il commento di Charlie Kaufman che a parte la cerimonia dell'Oscar tende a non essere appunto un divo presente negli eventi pubblici ma che dopo anni di lavoro con noi su questo progetto ha deciso di raggiungerci da domani a Bologna per incontrare i tanti appassionati del suo cinema e aiutarci ad entrare nel suo straordinario immaginario. E a Bologna ci sarà spazio anche per un grande protagonista degli Oscar di quest'anno, il docufilm The Cove? Sì, oltre a Charlie Kaufman e a Clint Eastwood, due grandi maestri che ricevono il lancio Celebration of Life quest'anno per i grandi narratori, ovviamente il focus è quello sul documentario e non poteva mancare il film vincitore dell'Oscar The Cove, un documentario che al contempo è anche inchiesta ed è anche action. Qui vediamo il protagonista che è poi l'addestratore del mitico delfino Flipper della serie televisiva americana che è così appassionato dei delfini che negli ultimi 15 anni ha cominciato a occuparsi attivamente della salvaguardia dei delfini e avendo scoperto che di fatto c'è una lobby soprattutto guidata dal Giappone per continuare la pesca ai delfini, ha cercato di dimostrare l'assurdità di questa pesca che peraltro sembra essere effettivamente anche dannosa per la salute umana, la carne di delfino almeno questo il documentario premio Oscar sostiene e lui in qualche modo testimonia anche in eventi pubblici quindi questa sua battaglia che va molto oltre anche il racconto stretto, stringente diciamo di questa azione al centro di The Cove. Ed è stato il protagonista di The Cove, è stato nostro ospite la scorsa settimana i nostri telespettatori lo ricorderanno, intervistato dal nostro Lorenzo Dillas Plasas dal 9 al 14 giugno il Biografim Festival a Bologna siamo in chiusura direttore Romeo, le chiedo l'appuntamento al quale lei tiene personalmente di più Sicuramente la presenza di Charlie Kaufman è un grandissimo piacere aspetto di presentare mercoledì alle 7 all'apertura del festival il videomessaggio che Clint Eastwood ha registrato per noi Eastwood è in questo momento impegnato nella realizzazione del suo nuovo film peraltro un film biografico, un film su Hoover e ha realizzato per noi assieme alla moglie Dina Ruiz, anchorman americana questo videomessaggio esclusivo in cui appunto accetta il lancio a Celebration of Life e racconta il suo rapporto con le biografie e anticipa anche qualcosa del prossimo film Allora Romeo, prima di salutarla vi faccio un'ultima domanda che ci serve anche per presentare il prossimo ospite si è parlato molto dei tagli nella manovra correttiva anche al mondo della cultura una battuta su questo? Ma mi sembra che la battuta sia non vado a spese per risparmiare se si ha un frigo pieno è inutile staccare la spina per risparmiare l'elettricità perché poi alla fine bisognerà necessariamente rifare la spesa e riempire il frigo perché senza cultura non si va da nessuna parte e una comunità come è la comunità nazionale italiana e le piccole comunità locali non può vivere senza senso di identità e senza cultura Allora grazie ad Andrea Romeo, direttore artistico del Biografie Film Festival ricordiamo gli appuntamenti 9-14 giugno a Bologna grazie per essere stato ospite di Renews grazie per essere stato ospite di Merigliano Grazie a voi e vi aspettiamo allora abbiamo grazie a voi